Benvenuti su Gossip e Notizie. Iscriviti per restare aggiornato su tante notizie. Grazie. Amici 23. Emozioni e sorprese nella puntata di oggi. Le anticipazioni di Amici 23, la tensione è palpabile. La puntata di oggi ha riservato colpi di scena e momenti carichi di emozione, con il pubblico incollato allo schermo per scoprire il destino dei giovani talenti. La sfida eliminatoria tra Lil Jolie e Sara ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Le anticipazioni avevano già suggerito un esito inaspettato e, infatti, è stata Lil Jolie a dover dire addio al sogno di Amici. Nonostante la sua performance intensa e coinvolgente, il verdetto ha visto prevalere Sara, che ha conquistato la giuria e il pubblico con la sua energia e presenza scenica. Ma il serale non finisce qui, al ballottaggio finale. Due talenti si sono trovati nuovamente di fronte alla possibilità dell'eliminazione, Sara e Aurora. Quest'ultima, entrata nella competizione per sostituire Gaia, infortunata, si è trovata a ballare per due, portando sul palco tutta la sua grinta e passione. Il verdetto finale sarà rivelato solo sabato sera, ma una cosa è certa. Il talento e la determinazione di questi artisti hanno già lasciato un segno indelebile nel cuore degli spettatori e nella storia di Amici. Restate sintonizzati per scoprire chi, tra Sara e Aurora, dovrà abbandonare la scuola e chi invece continuerà il proprio percorso verso il successo. Amici23 continua a regalarci emozioni e a dimostrare che la passione e il duro lavoro possono portare a risultati straordinari. Grazie per l'ascolto e iscrivetevi al canale per essere aggiornati su tante notizie. Grazie.